Il pressing non si allenta. Forza Italia insiste su tempi e modi della verifica di governo concessa da Napolitano. Attacca Letta che propone la sua agenda. Bella sensibilità istituzionale da parte del Presidente del Consiglio che antepone le vicende interne al Partito Democratico e i suoi doveri istituzionali, dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta. E la Bernini, vice capogruppo al Senato, ripete Letta salga il colle di missionario e aprono a formare crisi di governo, si faccia chiarezza in Parlamento. I forzisti puntano a drammatizzare ulteriormente lo strappo con gli alfaniani, a rimarcare la nuova natura dell'esecutivo a trazione PD. Anche perché ci sono altre dimissioni che, nonostante l'annuncio dei vertici del partito, tardano ad arrivare, quelle dei viceministri e sottosegretari di Forza Italia, sintomo di un possibile smottamento verso il nuovo centrodestra. A ora l'unico dimissionario è il sottosegretario Micichè. La Santelli si è dimessa, sì, ma solo nelle mani di Berlusconi. Ferri si è proclamato tecnico e quindi non propenso a dimettersi. Girlanda si è detto pronto a lavorare accanto a Lupi e quindi nel nuovo centrodestra. Architace, ma potrebbe prendere la stessa direzione. Cirillo e Ferrazza non si sono espressi. Tanto che Letta è sarcastico. Le dimissioni stanno arrivando con il contagocce. Non ce n'è una valanga. Ora tornerò in ufficio e controllerò la casella di posta elettronica. Ma la polemica sulle poltrone continua anche sugli incarichi parlamentari, assegnati sulla base degli equilibri della vecchia maggioranza. Caselle fondamentali per la navigazione dell'esecutivo. Il ministro De Girolamo chiede le mie dimissioni, dice il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nitto Palma. Ma il mio ruolo di garanzia. Mi dimentico se si dimette lei, che è stata eletta con i voti tributati a Berlusconi. Quelli di Forza Italia sono poltronisti incoerenti, replica il ministro della Salute Lorenzin. Clima rovente, mobilitazione permanente nel quartiere generale di Forza Italia, che confide nel nuovo corso del PD dopo le primarie, correnze segretario, per il ritorno alle urne in tempi brevi. Verdini ha scritto a tutti i deputati di Forza Italia una mail per convocare conferenze stampa in tutto il paese il 7 dicembre sull'estromissione di Berlusconi dal Parlamento, il no alla legge ristabilità, il ritorno allo spirito del 94.